Ho visto un pazzo generare altra pazzia, eppure io potrei curare la loro pazzia ora. Signore Dio, dove sei tu? Devo farlo? Devo farlo? Devo farlo? Spendo un decadipenza da sesto a presso, e vado a malapena a me stesso, ed adesso non ho neppure il tempo per sedermi sul cesso. Ma cosa cazzo è stato? Vivo alla velocità di un tempo rattobbiato, che sono solo le otto e sto già pressato, e riesco a avere idee solamente da stressato. Io sto cercando un nascondiglio, da un sistema da cui non mi ribiglio, fa il presidente ed è lì che insiste, fa dei sorrisi enormi nelle sue interviste, ed ha capito per primo una cosa che è triste, che quel che non appare in tv non esiste. Si è fatto da solo e tu dovresti saperlo, che chi si fa da sé ora diretti ne ha ben tre, e se non riesce mai a portare a termine i suoi fini, è colpa dei comunisti che mangiano i bambini. E puoi gridarlo forte, man, bring the pain, ora che anche qui abbiamo il nostro citizen, che è insane in the brain, è incredibile, che tutto quel che vedi in giro è suo e intoccabile. E chi pensava di restarne fuori è il primo che si sbaglia, anche lo straniero adesso canta forza Italia, ciò che mi hai preso tutto è un vaffanculo, mi è rimasto l'ultimo favore Silvio, prenditi anche questo. Chi credi di prendere per il culo, puoi prenderti tutto quello che abbiamo ma non la nostra coscienza, mentre te ne promuovi la tua follia, c'è gente che si muove pronta a limarti le zanne. Fai piano, occhio al caimano, tieniti stretto quello che hai in mano. A costo di mettermi nei guai, giuro che non ne avrete mai, fiction reality sport che fai, non mi telecomanderai, video radio frequenzerai, vivo in questo fascismo like, sai che a me non ne avrete mai, non ne avrete mai. Ti chiedi perché strilliamo? E per l'affitto che paghiamo è il presidente che abbiamo, e se ci lamentiamo in fondo è perché possiamo, per il semplice fatto che noi non lo votiamo. Qui c'è chi è contro e c'è chi intugia, vale un digitale terrestre la sua fiducia. Lo botomizza i cervelli e ce li fracassa, con armi di distrazione e di massa. Chi ci rimette poi sono i medesimi, che alla fine del mese contano i centesimi. Non me lo dagli a bere il tuo finto benessere, tessere su strisce, strisciate di tessere. Eppure tutto questo credo d'averlo già visto, sangue, censura, asterisco, sangue, il sangue che è l'inchiostro della storia. La storia si cancella quando perde la memoria, e la memoria è persa fra le pagine di un giornale, dietro ai vetri oscurati di un auto ministeriale. Guidano mandri di cyber caproni, fra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni. Ma io vi domando, se ci fosse stato davvero bisogno di dare qualche centinaia di miliardi a qualcuno. Il signor Berlusconi aveva bisogno di falsificare i binaggi delle sue società. Faceva semplicemente un cerchio alla cassa personale, dove non ci sono vincoli di contabilità, e dove poteva prelevare non centinaia di milioni, ma centinaia e centinaia e in qualche occasione anche un miliardo di volte le nazioni che erano raggiungi. Ma chi è questo innominabile, imperscrutabile, soprannaturale tiranno, che mi comanda contro tutti gli umani affetti e desideri di proseguire, di andare avanti, di agitarmi tutto il tempo, facendomi fare cose che nella mia vera natura non avrei nemmeno osato sognare.